C'è musica nell'aria e lo slogan dell'edizione 2023 di Vicoli d'Arte, una delle più attese manifestazioni dell'estate salentina. Le due serate matinesi, del 10 e dell'11 agosto, saranno caratterizzate da un nuovo percorso che farà da cornice a vari spettacoli e, ovviamente, a esposizioni artistiche di ogni tipo. Le strade del Borgo Antico saranno allestite a festa, mentre le meravigliose sale del Palazzo Marchesale accoglieranno artisti professionisti. L'importante tradizione che si sta tramandando, che si lega con un percorso culturale fondamentale, legislativo, che si tiene proprio nella mia Commissione Cultura del Senato. È stato approvato pochi giorni fa, nella parte emendativa, una legge sui cammini, dove un evento di questa natura trova il suo spazio pieno, diciamo, per le programmazioni future. Quindi, tra questo, le rievocazioni storiche. Oggi a matino si celebra questa festa, il 10 e l'11, che si lega a tradizioni culturali, a rievocazioni storiche. Per questa settima edizione, una grande novità, i due giorni. Tanto richiesti quest'anno ci sono. 10 e 11 agosto, oltre 50 eventi nell'ambito di un chilometro di percorso, tra esposizioni d'arte, musica, live e street art. Vi aspettiamo. Grazie, soprattutto, alla pazienza di tutta la popolazione di Matino, che ci accoglie e comunque entusiasta anche di questo evento, a tutti gli sponsor e al lavoro dello staff di Vicoli d'arte. Ma, ripeto, non saremmo niente senza tutte queste altre persone che ci supportano.